Come nasce? Nasce, non dimentichiamo che io sono nato nel 44. A Roma? A Roma, qui. Perché mamma e papà lavoravano al valle, provavano, e io, mamma, come si dice, sono rotto le acque, e su palcoscenica, stavo per nascere al valle, ma fu presa in tempo, mamma, e fu portata a Piazzetta dei Cruciferi, di fronte alla Fontana dei Trevi, o là sono nato. Per cui, la Prima Guerra Mondiale, anche da neonato, l'ho vissuta. La Seconda Guerra Mondiale l'ho vissuta, la Prima Guerra Mondiale, invece, l'ho vissuta attraverso i racconti di mia nonna. Per cui io so, la guerra c'è sempre stata. I ricordi di bambino sono quelli che io sentivo da mia nonna durante la Prima Guerra Mondiale, perché mia nonna era dell'88, per cui, vedi, quelli della mia età, che hanno la mia età certa, hanno questa bella prerogativa di aver vissuto tre secoli. L'Ottocento attraverso i racconti dei nonni, il Novecento, e purtroppo pure il Duemila. Vabbè, debba già esserci comunque. E allora io penso che questo grido, la canzonetta era stata scritta da Ea Mario Nicolardi per esorcizzare una cosa brutta, come la guerra, che fu scritta nel 1945, nell'immediato dopo guerra, quando Ea Mario e Nicolardi vogliono esorcizzare con questa canzonetta, divertente ed esorcizzante, la guerra, che è una cosa brutta e una piaga. Io ho cantato, la cantavo da bambino, e poi da grande, con la nuova compagna di canto popolare, ho incominciato a rielaborarla in maniera diversa. Ma fino a quando poi, negli anni settanta, l'ho rielaborata io, è diventata questa tamuriata che poi diventa un grido e l'ho dedicata poi alla violenza sulle donne. Per cui mi piace più adesso, devo dire. Senti, prima di salutarci ti chiedo questo. Noi ci siamo visti alla fine del 2020, io sono venuto a casa tua, fu un'esperienza notevole insieme a Pierfrancesco e eravamo appunto nel primo anno di pandemia, ancora non c'erano i vaccini e ci siamo salutati, ancora mi ricordo, sul tuo terrazzone e tu dici, io qua ci vengo a fare i botti di Capodanno e mi andiamo un po' a fanculo il 2020, mi ricordo questo. Poi ci siamo fatti il 2021 come ce lo siamo fatti, ci ritroviamo nel 2022, stava meglio prima, io non so più che... C'era un po' di ottimismo in quel momento, ecco. Io non so più che dire, perché veramente non so più che cosa pensare. Penso che una cosa certa, che le persone che vogliono la guerra, non faccio nome, le persone che vogliono la guerra sono povere creature, infelici, perché sono nate con una malattia congenita, un buio nel cuore. Per cui queste persone non pensano ad altro che a danneggiare gli altri, questo penso. Può essere pure che mi sbaglio, però penso che le persone che vogliono la guerra siano proprio queste. saranno dei... Io spero che qualcosa avvenga, deve avvenire qualcosa di magico, di miracoloso, per cui deve succedere qualcosa che renda la vita un po' più vivibile di come è adesso. Speriamo che questo qualcosa avvenga, sicuramente ce l'hai resa migliore tu con la performance che hai appena fatto. e io ti ringrazio moltissimo e spero di rivederci presto o a casa tua o su questo parco per la gioia di tutti. In coppo o trazzo mio, con una bella spagata. Allora, tu hai adesso il prossimo disco, si intitola Cipri e Caffè e esce a metà maggio. A metà maggio. Un grande applauso a Peppe Barra! Grazie mille. Da dove esci? Da dove esci? Da dove esci? Da qua, davanti, Peppe Barra, eccoci qua. Attenzione, eccoci qua. Peppe Barra! Grazie mille.